E io topo, viceversa. È figo, ci sta come cosa. Ci sta come cosa. Ah, siamo contro Gnar. Il Doranshield sarebbe la cosa migliore, ma sapete che vi dico? Torniamo alle vecchie abitudini. Oggetto dei soldi e passa la paura. Allora, noi dobbiamo fare... I soliti 1200 gold per prenderci il Tiamat. Questo è l'obiettivo. Ovviamente il trend da pacifista, come i pick pacifisti, non è che non posso picchiare nemici. L'obiettivo è quello di concludere la partita senza kill e assist. Questo è l'obiettivo. Poi posso picchiare quando posso essere anche top damage. Spoiler, non accadrà mai, ma... Per quanto riguarda posso anche essere top damage. Importante non avere kill o assist. Vincere con zero danni è brutto pure, perché, cioè, non puoi buildarti il Tiamat, non puoi buildarti... Cioè, se te lo buildi il Tiamat non puoi farmare se l'avversario è vicino ai minion. C'è un casino. C'è stato, ci sono dei video molto vecchi di Trinda... Che vince senza fare danni, però... Master Nameless, al comico ci sono soltanto venerdì e sabato, purtroppo. Mi dispiace. Cioè, neanche domenica ci sono. Perché, per farla semplice, la fiera ha accettato... La fiera ci ha... Ci ha accettato... Ha accettato lo stand Arcadia Fantasia troppo tardi ed erano finiti i... Come si dice... Erano finiti i posti in hotel, quindi niente. Sabato e poi... Si parte. Ambiente che uccide l'avversario senza attaccare. L'ho già fatto. Con Rammus. Se vai a vedere il video di Rammus, 4500 di armor. Vedrai che ci sono io fermo. E gli avversari che mi attacchano e muoiono. Lo spiego, grazie a casa mia. Grazie, è molto gentile, però... E anche che sono stanco perché ho fatto... Ho fatto Torino Comics, sto weekend sono a Milano e dopo subito a Napoli, quindi... È anche un po' il problema della stanchezza. Il fatto che non voglio stare via di casa troppo perché... Se fosse solo Napoli, avrei detto faccio tutti i giorni, un po' come a Lucca, no? Però non è solo quello. Oh, stronzo. Ok, niente kill e assist, ma è che non ti posso picchiare. Non mi fare... No, il carretto... Pezzo di merda. E poi qui, ragazzi, c'è la PlayStation Webcam. Merda, è caduto tutto. Quanto vorrei poterlo killare adesso? Oh, no, via... No, 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 no. Non mi inseguire, per favore, no! Ok. Ok, ok. Ho dovuto trovare un modo per far sì che V non potesse gankare, ragazzi. Questo qua iniziava ad inseguirmi, se la setappavo. Manu Blood! Grazie mille del sub, carissimo. Oh, oh. Oh. Ding, dung, ding. Ding, 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 ding. Che brutto game per fare trend da pacifista. Percepisco già... Ecco, pinghiamo un po' Rihanna, così. Diamo la colpa a lei. È Rihanna, è Rihanna! Palle sto tizio, guarda. Il ranged top lane dovevo beccarmi. Ok. No, no, pingato anche lei, Rihanna. Però posso dire che Rihanna c'è stesso farm, questo qua. Cioè, Velcro è stato via mezz'ora. Oh, no. Eh, vabbè. Ok. L'importante è che questo non faccia robe strane. Thank you. Diciamo uno. Rihanna, impinghi you, please. Eh, vedi che ce l'ha con Rihanna, ve l'ho detto. Rihanna dorme. Eh. Mia cugina si stroffina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Ok. Andiamo back, ragazzi. Ci abbiamo il Tiamat. Ora lo pestiamo. Nayuki, 17 mesi. Grazie, carissima. Ben tornata. Ben tornata, Nayuki. Che game è? Un game molto particolare con un pazzo trend da pacifista. Buonasera, igreggio fielo. Ok. Ora lo pestiamo un pochino, questo. Così facciamo capire che deve esloggiare dalle palle. Ok, perfetto. Abbiamo fatto capire chi comanda. Non lo abbiamo killato. Nessuna ulti di Jinx che possa killarlo da scampia. E noi passiamo. Ecco qua, visto? È come se tappare un bel proxy, ragazzi. Ecco qua come se tappare un bel proxy. Procoma in pinging! Damb Italian! Bentornato, carissimo. Grazie mille del sub. A te, mo' mi vede si trigger. Dite che posso farmi lo e qua rompermi il cazzo, questo. È lì, ok. Ok. Mamma mia, ragazzi. Che bel, che bel gameplay. L'unico peccato è che sia un contro Warwick. Oppure meglio, chi lo sa. Ma andarcela le scarpe. Din, 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 din. Sente quanti ping. Back. Ma non vado back a sto punto. Stiamo qua. Vediamo se inar viene. Vuoi il tante bot lane. Mo' c'è anche il red buff. L'unica cosa brutta di sto pick è che tu metti le scarpe nelle rune. Perché comunque, sai, sono belle. Però le puoi avere solo al minuto 12, perché non fai dei kill e assist. Quindi non puoi averle prima. Damb Italia! Ma sei pazzo! Ma grazie, ma cosa sono questi 50 sub? Grazie mille, bro. Ma a cosa devo quest'onore? Grazie mille. Damb Italia. Ma lei è Damb in tutti i sensi. Pazzesco. Pazzesco, bro. Grazie mille del supporto. È pazzo! Grazie, caro. Davvero, sei gentilissimo. Grazie, grazie, signor Damb Italia. Lei è troppo gentile. Ti dicerò un bellissimo proxy adesso. Un bellissimo... Una bellissima proxata. Ho tempo che torni in lane. Che build? Ah, il collo intanto fa cric-crac. Beh, ci facciamo una bella Ravenous. Insomma, tutta la build per pushare. Basta, la classica build per pushare. Capito, Damb Italia. Beh, ti capisco. Giustamente, per donare tutti sti sub bisogna fatturare. Quindi è ovvio che sei impegnato. Guarda, ti faccio la gallina. E ti saluto. Eccolo, è impazzito. Attimo, ok. Appena riesco a muovermi di nuovo. Ecco qua. Flash. Ah, il jump ha fatto. Eeeh Ta ta tara 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 Ah l'Urbreaker si, la BT no La BT non mi interessa Perché tanto ci refulliamo noi quindi C'abbiamo un red boss, c'ha un lifesteal Non vado back Lo so che con la V riesco di prendere Chi lo assist, lo so, lo so Allora V è qua ed è un male Quindi spero anche questo sluggi E dai va tene bro Ok Oddio via Orianna, Orianna Ok stando back Presto Orianna aiuta il nostro jungler Cosa aspetti Via Ok Ok Allora Warwick era qua Quindi potrebbe venire a prendermi Why are you playing like Ah Ah that Why are you playing like that Cosa invade? Eh infatti Dov'è il trattato pacifista qui No c'è pure che c'è sempre a divertirsi Che sarebbe andato Che sarebbe andato Pacifico e proxatore Comunque Shaco è meglio ragazzi Non c'è niente da fare Shaco ci fa capire quanto sia effettivamente superiore come proxy Cioè fa molta meno fatica a raggiungere qua Piazzi le box a essa sinistra Quelli non riescono ad attaccarti Perché le box punzecchiano E diventa invisibile E poi la copia Il trinda è comunque tanta roba Sia chiaro Però trinda che non può killare Fa più fatica Shaco E Shaco non può killare Perché fa schifo il campione Quindi Forse è più facile per questo Problem C'è probabilmente sta flammando Warwick Perché sta giocando bene Warwick You are a bad jungle Eh sì Me ne vado Aggressive Aggressive Oh no Via Io scappo Ciao ragazzi divertite Cosa potrebbe mai andare storto Ecco Rompo tutto Dambi italian un altro Ma grazie 327 manz in the channel 327 manz Cos'era? Grazie mille bro Missato Scemo Grazie mille bro 327 manz Dove è andato? Dove è andato? Attenti Attenti Che non voglio fare assist Attenti Non so se esco a tippare in tempo Sapete? Ci provo Sì ok 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 Zepere 127 manz Ah per adesso 350 gol di Italia Secondo voi riesco ad aggiungere 700 gol di Italia Senza kill assist Secondo me no La vedo molto dura Non so se è possibile Una taglia così grande Senza kill assist Ok E niente Parte così l'inseguimento Fa dire che Cioè loro pensano davvero Potermi raggiungere Cioè Taric Che insegue Trindamer E che la speranza È l'ultima morire Prova a farmare così tanto Da ragione Siamo già a 400 ragazzi Challenge Allora Nuova sfida Per questo Per questo game Challenge 700 Taglia massima Senza kill assist Taglia massima Senza kill assist 450 Attenzione Se la taglia qua 500 gol di Italia Attenzione Attenzione Ok Adesso c'è una parte difficile Che è scappare da qui Non così difficile In fondo Ok Pot 500 di Italia Ancora Se faccio sta torre Secondo me prendo Tanti di quei soldi Che arriva A 550 600 Riesco a prendere la torre E anche a salvarmi Ci proviamo Potrebbe Ok C'è una precisione Incredibile Ragazzi Non so che dire Vabbè sarei morto Lo stesso per Warwick Esagerato qua Peccato 550 Ho fatto Sei previamente morto Lo stesso per Warwick Perché comunque Con la velocità Che ha È difficile Scappare Challenge persa Della taglia Peccato Vabbè E Non so se l'Hallbreaker Ha senso In realtà Vi dirò Ma si Le facciamo Non c'ho il TP No la challenge Rimane sempre Il train da pacifista Sia chiaro Bella Momo Bravo La challenge è sempre Il train da pacifista Sia chiaro Stanno combinando i miei alleati Ma c'è un bel da pingare me C'è Nel senso Sì Però allo stesso tempo Uno che sta sotto torre Siete Orianna E Tristana State sotto torre E clearate Guardate qua Cosa vi combino Oh no Tarik Vacci piano bro Dimmi che c'è la pianta Sono morto Eh vabbè No 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 Che l'hai tattato di No no Tarik Salvalo Salvalo No Vai scassone Uccidili tutti Scassone C'è Ma vi rendete conto Sta gente fa così schifo Che non riesci nemmeno a non ammazzarla C'è più difficile non ammazzarla di ammazzarla Challenge persa ragazzi È più facile ammazzare sta gente che non ammazzare Vabbè niente Guarda C'è Tarik E qua Guarda Ma la ult Ah non ce l'ho la ult Ma la ult Ah non ce l'ho Due secondi Eh ragazzi Ma col fleet Fa comunque un po' cagare C'è con tutta sta build Fa un po' cagare Nonostante tu Vabbè niente Challenge fallita ragazzi Che tragedia C'è Warix ha letto la lente suicidato Dandomi l'assist Mi ha ultato Mentre io ne Ma What can I say ragazzi Niente Niente Tragedia Totale Gli alleati Fanno ancora più schifo Vabbè vino labiasimo È stata per me invasa Aspettiamo un attimo Lullbreaker Ok Ok Cominciamo a stappare Trinda It's me Ok Tiriamo giù anche questa Passate che ridere Se par tipo un report 3 Vabbè Literalmente Tutte le strutture nemiche Che non vedete Le ho tirate giù io Ma sì ragazzi Lo so che ci stanno i nemici Dai Ecco Cioè io non ho parole Mi ha preso Mentre ho fatto lei Comicon ci sono venerdì E sabato Vabbè Non hanno fatto il baron Per qualche motivo Quindi noi Lo diamo per buono Ora ci serve Attack speed Ability haste Sinceramente Stanno da più Muin speed No Forse una phantom Ci farebbe comodo C'è un sacco Muin speed Tanto alla fine Dobbiamo pushare E scappare Quindi Ci facciamo tipo La phantom Ma Eh Ok Mi adesso uccidi Eh Visto After trinda Esatto Vedete Vedete Tutte le torri dei nemici Perfetto Vedete tutte le torri dei nemici Che non ci sono Andiamo Andiamo Tanto ormai Io sono un report Capito Quindi Io sono Il cattivo del team Quindi Tiriamo Dritto Andiamo a distruggere Vai Vai Torritona In su Adesso Niente Report Trinda Eh vabbè Non avevo la ulti E vorrei che era back È uno di quei game ragazzi Quando le cose devono andare storto Vanno storto Non ci potete fare nulla Affidatevi Non ci potete fare nulla Dovete soltanto accettarlo Qua con la ulti Ce l'avrei fatta Almeno tira giù L'altra torre Così aprimo il backdoor Adesso purtroppo no Ho il tp per il backdoor Sì ma c'è la torre up E non ho Nessuna ward lì Il VIP come lo fai riscattare Il solito Ha un tot sub giftati Ma non so quant'è Tipo 50-60 Sub giftati Da esso In totale Ma dambitalian Ce l'avrebbe già avere Sì esatto Quindi Perché i posti I veri VIP Non so se lo sapete Ma sono limitati Non potete mettere Tutti i VIP Che volete su Twitch Mi pare massimo Il massimo consentito Quando avete Tot sub È 100 Ok Ci abbiamo vinto Gli nemici hanno intato Abbiamo vinto Vabbè Non so che dire ragazzi Ah Ora per soddisfazione Me la prendo con te Così impari Ah Le Una bella soddisfazione Fare una kill Su stat Capito Ecco Una bella soddisfazione Vabbè Tanto ormai Abbiamo perso la challenge Così abbiamo finito Una kill Un assist Un po' di simmetria Da queste parti Corvo Crowders Te lo faccio sapere I prossimi giorni Perché la spacchetto La legendary collection Sai Onoriamo Orianna Che non ha cagato il cazzo Zero Orianna 200 danni Alle torrette Cosa sono? Due autoattacchi Tre autoattacchi V Zero Non ha mai visto una torre Proprio non sa neanche cosa sia Sì È Se Sì 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 Sì